E colgo l'occasione per parlare un attimo con il professor Pino Barone. Ma professor Pino Barone, l'importanza del castello di Santa Severina? Intanto il castello di Santa Severina è un castello fortezza, uno dei castelli più importanti che abbiamo in tutta l'Italia meridionale. È un castello che fra l'altro presenta una sorta di stratificazione, perché quando si parla del castello di Santa Severina si parla proprio di questa origine bizantina, di questo castron che poi praticamente verrà man mano nel corso dei secoli ampliato. Quindi abbiamo un castello che nasce intorno all'Ottocento e finisce la sua storia nel 1800. Quindi abbiamo mille anni di storia documentata proprio da questa struttura stupenda che è stata restaurata e che appunto è considerato uno dei manieri più importanti di tutta l'Italia meridionale. Lei parla di questo castello aprendo diciamo le porte del suo cuore. Perché è così importante? Perché dobbiamo fare un invito alle persone che ci sono da casa a visitare questo castello? Il castello di Santa Severina è importante perché comunque rappresenta quel famoso volano di cui tanto si parla per quanto riguarda la Calabria, quel volano che potrebbe essere il turismo. Poco fa appunto si diceva che qui effettivamente all'inizio avevamo circa 65 mila visitatori all'anno. Adesso appunto come cooperativa si sta cercando di offrire cose anche diciamo diverse ma certo abbiamo Santa Severina non solo il castello, abbiamo a Santa Severina il battistero bizantino anche questo un elemento unico in Italia meridionale perché appunto si presenta con una pianta circolare con otto colonne dal punto di vista architettonico veramente unico e tra l'altro recentemente restaurato. E poi abbiamo per quanto riguarda i beni ecclesiastici abbiamo il Museo Diocesano di Arte Sacra voluto da Domiciti, recentemente scomparso, costruito da Domiciti appunto dal 1998 in poi e poi all'interno del Museo Diocesano di Arte Sacra abbiamo la bellissima biblioteca diocesana che contiene testi stampati, cioè abbiamo addirittura degli incunambuli che vanno dal 1498 in poi abbiamo cinquecentine, seicentine e poi abbiamo l'importantissimo archivio che non riguarda solo la storia di Santa Severina bensì la storia di tutta quella che era la diocesi di Corsone di Santa Severina per cui ecco tra l'altro approfitto proprio per dire agli studenti che appunto l'archivio è anche aperto per eventuali richieste di diciamo ricerche anche su Roccadineto abbiamo diversi fascicoli che parlano appunto di Roccadineto, ma di tutti i paesi quindi Santa Severina ecco non a caso viene definita la perla del Marchesato quando si parla di cultura perché d'altra parte la storia ci ha lasciato emergenze architettoniche importantissime ma anche documenti importantissimi che noi da dieci anni a questa parte, più di dieci anni a questa parte stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare Voi quest'anno per il 150esimo anniversario sull'Unità d'Italia state preparando un progetto di che cosa si tratta? Sì, questa è un'altra iniziativa molto interessante che è nata appunto dal Circo Unione un'altra associazione culturale che è nata recentemente qui a Santa Severina e che vuole fare un processo all'Unità d'Italia giorno 5 marzo all'interno del Consiglio Comunale della Sala Consiliare ci sarà un processo vero e proprio che verrà fatto all'Unità d'Italia avremo un giudice, avremo degli avvocati, avremo una giuria con un Presidente e si discuterà appunto se l'Unità d'Italia fu una semplice annessione o una vera unità ecco questa è una bella iniziativa tra l'altro che interesserà non solo per il 150esimo anniversario ma diciamo dal punto di vista storico, specialmente in questo periodo in cui si parla tanto di federalismo eccetera, ecco cercare un attimino di capire un po' questa nostra unità se effettivamente è un'unità reale oppure è un'unità fittizia Ricordiamo ancora la data? Il 5 marzo, il 5 marzo alle ore 17 ci saranno ovviamente anche dei momenti musicali verranno riproposti alcuni canti della tradizione appunto filoborbonica, filounitaria ci saranno storici come appunto il professor Ludirico Nisticò poi ci sarà un altro storico che è Claudio Pirillo per quanto riguarda la parte appunto repubblicana accompagnati rispettivamente dall'avvocato Cavarretta che farà l'avvocato per quanto riguarda la parte repubblicana mentre per quanto riguarda la parte filoborbonica ci sarà l'avvocato Scarpelli mentre poi appunto ci sarà il giudice Raffaele Lucente e inoltre la giuria che sarà composta dal presidente Nicola Locanto che è l'attuale dirigente dell'istituto comprensivo di Santa Severina con 10 studenti del liceo classico di Santa Severina un processo aperto a tutti certo, siete invitati appunto a venire a vedere questo progetto un processo che sarà sicuramente molto interessante bene, grazie professor Barone allora da qui dal castello di Santa Severina possiamo trasferirci un attimo al museo nel palazzo Arcivescovile certo, andiamo a vedere appunto il museo di Cesano e la biblioteca grazie grazie grazie